Bella a tutti ragazzi per me in questo nuovissimo video qui al vostro X-Brizz E quando si inizia a vestire un po' con manichetta lunga, fa un po' freddino, lo io e so bene E alle porte, sì, perché domani lunedì 30 agosto inizierà questo fantastico torneo Tre giorni fa sono usciti i tabelloni ATP e VTA, io non ho avuto il tempo di vederli Quindi li andremo a vedere oggi insieme E quindi first reaction, shock E speriamo bene per i nostri italiani, ecco Prima di iniziare vi invito ovviamente a lasciare un bel like al video, commentate, iscrivetevi Ragazzi siamo arrivati a mille iscritti, grazie mille a tutti Un bacione per questo traguardo che abbiamo spuntato finalmente Da due anni quasi sognavo questo traguardo, ci sono arrivato Quindi per lo US Open, belle, stupende, live, porterò ovviamente Allora, partiamo subito dall'ATP Ho visto già che nella parte alta del tabellone ci sono tutti gli italiani Quindi molto molto bene, non andremo a bisognare la seconda parte Abbiamo subito Salvatore Caruso contro Kenny Shikori Partita subito, vabbè, diciamo ragazzi, la vittoria di Kenny Shikori Abbastanza scontata Spero solo che Caruso faccia una buona partita Ecco, è stato un po' sfortunato questa fase iniziale A beccare subito, secondo me, un grande come Kenny Shikori Però, taglie salva, metteci la tutta, taglie Poi abbiamo Gianluca Mugger contro Jordan Thompson Secondo me questa è una partita che Mugger può vincere Thompson è un tennista che serve molto bene Ha dei dritti molto profondi, molto potenti, stesse cose rovesci Un tennista che spinge molto Magari non è molto agile, però quando sta lì in posizione Prende la posizione giusta Spara dei colpi della Madonna Il problema di Thompson, ovviamente, sparando così forte C'è un margine di errore abbastanza alto Se Mugger riesce a contenerlo in qualche modo E a fargli perdere la testa E quindi, abbiamo già visto come Thompson Faccia anche due, tre doppi fallite fila Attenzione Quindi se riesce a contenerlo e a fargli perdere la testa Mugger può vincere Si andrebbe poi a scontrare contro Karacev o Gemmunar Quindi, speriamo bene Almeno la prima Mugger porta della casa Poi abbiamo Andrea Seppi contro Marton Fucciovic Non mi aspetto nulla da Andrea Seppi Mi aspetto solo che ci faccia divertire e che si diverta lui in primis Ha nella stessa quartina anche Urkac contro Kerasimov Urkac è quello più, con più probabilità di andare poi a un eventuale terzo turno Quindi, Seppi, dai Poi abbiamo Sonico contro Oskaroth Ok, poi c'è Kudla contro Gere nella stessa quartina Ok, ho già visto che se Sonico dovesse passare il primo o il secondo E approdare al terzo turno Si beccherebbe molto probabilmente il polacco Urkac Se potrebbe essere una bella sfida, ecco Un Sonico contro Urkac Vabbè, io tanto a Sonico gli faccio i miei migliori auguri Penso che i due turni li possa passare facilmente E poi al terzo ci farà sognare, chi lo sa Fabio Fognini contro Vasek Pissil Non riesco mai a dire il nome Stessa quartina Sant'Grie e Ivanka Se Fabio riuscisse a passare i primi due turni ad approdare al terzo turno Si potrebbe beccare, anzi, secondo me al 100% un italiano Perché sotto abbiamo Moutet contro Travaglia e Shardy contro Berrettini Se sia Travaglia e Berrettini passassero il primo turno Andassero a giocare il secondo turno Loro due, quindi già un derby italiano E poi al terzo turno un Fognini contro un Berrettini Penso che Travaglia possa battere Berrettini Ecco, però è un bel Fognini Berrettini al terzo turno Sarebbe veramente una grande cosa È un bel classico italiano, ecco Poi abbiamo ragazzi Cecchinato Che andrà a scontrarsi contro la Wildcard Svajda E Sinner Wildcard Purcell La cosa bella è che sono tutti e due nella stessa quartina Quindi se Cecchinato e Sinner dovessero vincere Non riesco a parlare oggi Vanno al secondo turno Cecchinato contro Sinner E si andranno a scontrare Per poi Chi vincitore andrebbe contro O Monfilz O Monfilz Perché poi c'è Coria, c'è Johnson, c'è Marte Roo Però penso che Monfilz possa vincere Monfilz non sta al 100% col fisico Quindi secondo me se dovesse vincere le due partite È un po' stanchietto Se Sinner dovesse battere Cecchinato Sinner contro Monfilz Speriamo che ci faccia sognare anche qui Yannick Poi abbiamo Musetti anche qui Wildcard contro Nava Oh, diciamo che Sinner, Cecchinato e Musetti Sono quelli un po' più avvantaggiati Hanno beccato tutti i Wildcard in pratica Quindi speriamo che almeno il primo turno lo bastino Musetti contro Nava Ok, il vincitore contro Kvun o Opelka Attenzione perché Sia Kvun che Opelka Sono bei, bei giocatoretti Che ti fanno veramente incazzare Poi se dovesse passare il secondo turno E approdare al terzo Beccherebbe, secondo me, Caregno Busta O Cordà Penso proprio Caregno Busta E lì Ok, applausi Finisce così Vabbè, questo è il primo turno Il tabellone ATP Non ci sono altri italiani Da quello che vedo nella seconda parte del tabellone No, non vedo nessuno Quindi, ok Perfetto Allora, secondo me Agli ottavi potrebbero passare Djokovic e Alex Deminaur E Urkac Berettini Zverev Yannick Sinner Bautista Agut Shapolavov Rubioff Aguarellasim Garin Tsitsipas Rud Svartsman Dimitrov Medvedev Abbiamo capito un attimo? Ok Quindi almeno Sinner e Berettini Approderebbero agli ottavi Adesso passiamo al tabellone VTA Ci sono 3-4 Tenniste femminili Sì, 4 La Giorgia è stata quella più sfortunata Da quello che sto vedendo Però andiamo a vedere un attimo C'è la Martina Trevisan Che andrà a scontrarsi contro la Worldguard Van de Weg Ok Poi abbiamo la Giorgia contro Simon Alep Questo è perché Giorgia non è riuscita ad arrivare Tra le prime teste di serie Quindi si è beccata una testa di serie subito Sarerani contro l'Alexandrova E la Paulini contro la Shedova Beh Non nessuno si aspetterebbe Che la Giorgia possa battere la Alep Però se dovesse accadere Ci sarebbe un ottavo contro la Svitolina Comunque la partita Giorgia-Alep Sarà una partita veramente bella Secondo me Dal vostro experience di tutto Lasciate un like Commentate, iscrivetevi Domani ragazzi inizia il torneo E quindi un bacione E forza azzurri Dagli è tutta Bella a tutti